ragazzi aggiornamento delle 16 e 20 meno due gradi direzione san pellegrino in albe qualcosa di spaziale ha picchiato una botta di neve impressionante fulmini saette fulmini saette e bufera insieme guardate che spettacolo roba da firma che bellezza stiamo andando verso il san pellegrino in alpe meno 4 gradi siamo a 1600 metri circa sul livello del mare stiamo in discessa verso il san pellegrino in alpe c'è paolo a spalare bravo paolo e non vale il sede vai se non tornare anche a casa ciao paolo c'è male c'è il palo che sta spalando ragazzi bravo paolo continuiamo a scendere se vi devo dire la verità mi sto cacando un po' in mano eh sto facendo la discesa del san pellegrino in seconda ridotta in discesa meno male ho bevuto un caffè corretto il problema è se trovi uno che viene in su capito solo quello che poi sono tre i tornanti brutti quegli altri un po' meglio però cacchio bruttina eh nonostante paolo ci è passato però se parte non la fermi più guardate che spettacolo là davanti ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale eh oggi ho fatto una prova di difficoltà ragazzi ragazzi san pellegrino in discesa il peggio è andato ora posso tirare un po' un sospiro di sollievo direzione chiozza ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdervi i prossimi video mi raccomando eh vi saluto scendo piano piano ciao belli al prossimo aggiornamento eh che spettacolo incredibile la neve è venuta fino a Chiozza e come vedete le strade non sono pulite qua questo c'è una catena sola quindi è ancora più in difficoltà è così la faccenda ha nevicato anche a Chiozza ragazzi impressionante grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti